150.000 euro è la cifra messa a disposizione dal Comune di Castelfranco per il sostegno alle famiglie nel pagamento delle bollette di energia elettrica, acqua e gas arrivate nel 2022. Le linee di finanziamento sono due, 100.000 euro dedicate a quelle famiglie che hanno un'ISE al massimo di 20.000 euro e che si trovano in situazione di difficoltà. La seconda abbiamo elevato l'astina dell'ISE, l'abbiamo portato a 30.000 euro, dando priorità a quelle famiglie numerose, cioè da due figli in su. Ad esempio un aiuto per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori e ci sono più figli e in generale ci sarà un contributo massimo per ogni famiglia di 600 euro. I tempi però sono stretti perché il bando è aperto dal 23 dicembre al 31 gennaio 2023. Ecco la raccomandazione del sindaco. La tempistica è corta, il bando si apre il 23 dicembre e chiuderà il 31 gennaio e quindi cerchiamo, cercate in qualche modo di attivarvi per fare la richiesta di contributo nella piattaforma che verrà messa a disposizione e noi contiamo di dare risposta come minimo a 250 famiglie. Tra gli obiettivi principali aiutare quelle famiglie del ceto medio che con il caro bollette cominciano ad accusare difficoltà. Per questo è stato alzato l'Isee. Le graduatorie terranno conto dei criteri di punteggio per i quali peseranno in particolare la fascia di Isee, il numero dei figli e perfino la loro età.